Ciao ragazzi, sono Romano Reggiani e sono molto contento di fare questo video. Dateci dentro con la vostra iniziativa, dovete crederci, nel senso che è una cosa molto bella anche tutte le vostre attività teatrali. Io ho iniziato facendo proprio quello che state facendo voi e quindi sono contento. Dateci dentro perché può essere una cosa bella anche per il futuro, nel senso che il teatro e l'arte, oltre a riempire il cuore, può essere una cosa che per alcuni di voi, chi avrà il talento o comunque chi vorrà provare a intraprendere questa strada, è difficile, complicata e lo è anche per me, che sono fortunato, ma dateci dentro, quindi non mollate. Ciao!